www.redigio.it e la storia continua i santi di legnano delle contrade san domenico la nutrice infatti dichiara di averlo trovato seduto a terra in contemplazione i biografi poi scrivono che spesso durante la notte abbandona il letto e si inginocchia a pregare questo significa che domenico è disposto notte e giorno ad affrontare ogni disagio per compiere il suo dovere non certo per essere ricompensato con ricchezze ma per amore della vera sapienza il cibo dello spirito userà la sua immensa dottrina in favore della chiesa nasce a Calaruega piccolo borgo della vecchia Castiglia e riceve una prima educazione per così dire casalinga da uno zio arciprete in seguito frequenta corsi di arti liberali e teologiche a Palencia dove colpito dalle disgrazie e dalla sua estrema miseria della gente vessata da guerre e carestie continue nel 1191 vende le proprie pergamene che peraltro gli sono indispensabili per sfamare i poveri non voglio certo studiare su pelli morti mentre delle persone muoiono di fame al termine degli studi a 24 anni entra tra i canonici regolari della cattedrale di Osma ed è ordinato sacerdote nel contempo perfeziona la sua affermazione e nel 1202 il vescovo Diego di Acebes chiede a Domenico di accompagnarlo in Danimarca per scortare una principessa che è stata promessa sposa a un principe spagnolo il viaggio nel Medioevo già di per sé è irto di pericoli perché per mancanza di strade e difficoltà di guardare i fiumi briganti penuria di mezzi di trasporto ed è acuito da due grandi difficoltà quasi insormontabili per i cristiani la presenza dei cateri nella Francia del Sud e dei pagani dell'Europa Nord-Orientale le eresie hanno buon gioco perché nascono da una profonda esigenza di ritorno alla povertà evangelica molto sentita dal popolo ma non sempre rispettata dai ricchi prelati e dagli ecclesiatici corrotti questo contrasto che dà vita ad esempio ai patali agli umiliati, ai valdesi è sottolineato e predicato anche dai puri di Provenza constatate le effettive problematiche Diego e Domenico si recono a Roma nel 1205 per chiedere il permesso di adoperarsi contro le eresie il Papa Innocento III già da tempo ha concesso ai monaci cistercensi ed ad abati di intervenire ma nonostante il zelo dei missionari gli incontri, le predicazioni, la situazione non sembra migliorare Diego e Domenico pensano di comportarsi in maniera differente abbandonano il lusso vivono in povertà parlano con imiltà e così nel 1206 possono recarsi in lingua d'oca dove Domenico continuerà la sua missione anche dopo la scomparsa improvvisa di Diego nel 1207 intanto fonda una comunità religiosa femminile che li affianchi con la preghiera e il servizio povertà e austerità di vita sono un ottimo esempio associato alle predicazioni per aver presa sul popolo e questo fa Domenico unitamente a colloqui dibattiti opera di persuasione preghiera e penitenza l'appoggio del vescovo di Tolosa insieme alla fondazione del monastero richiamano poco dopo alla volta donne e uomini che abbracciano i medesimi ideali con questi mezzi dal 1207 al 1214 tenta di promuovere la conversione degli albigesi ma con scarso successo contro di loro verrà poi promossa una crociata cruenta che li sterminerà assieme alle loro corti e alla loro cultura ma Domenico si adopera con le parole e l'ardente zelo senza usare personalmente crudeltà o violenza durante la battaglia di Moret il 12 settembre 1213 egli è in chiesa a pregare intanto matura l'idea di fondare un ordine di monaci ha un'approvazione verbale di innocenzo e segue quella regolare di Onorio III del dicembre del 1216 in seguito continuerà a predicare in Italia e manderà i suoi frati in giro per l'Europa muore a Bologna il 6 agosto del 1221 www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it